Sono venuto qua su invito per assistere a una dimostrazione dei prodotti Yamaha professionale. È stato molto interessante vedere le nuove soluzioni tecnologiche ai vari problemi che si possono avere nell'audio professionale. Inoltre questa collaborazione con il reparto moto è stata molto interessante perché ha permesso di vedere la forza e il campo ampio di applicazioni che ha un'azienda grande come la Yamaha. A presto farò il test drive e proveremo le moto Yamaha. È proiettato anche per il fuoristrada, quindi è una moto molto interessante, pronta a fare qualunque cosa, come i musicisti, siamo un po' pronti a tutto. Grazie a tutti.